Assessore Di Sabatino, forse non si candiderà più in Regione Abruzzo come consigliere nella lista del Presidente. C'è un ripensamento, potrebbe quindi riproporsi al Comune di Teramo? È un'ipotesi che stiamo vagliando con degli amici, quindi voi avevate dato per prima la notizia che poi non era una notizia che io mi sarei candidato in Regione e oggi la notizia che date è che io sto pensando di non candidarmi più in Regione. La vicenda merita un approfondimento ulteriore, anche con tanti amici stiamo pensando di ragionare assieme perché queste situazioni sono emerse in questi ultimi giorni. Francamente per chi come me la politica la fa davvero per passione e per hobby, se mi potete passare questo termine, questi aspetti non hanno lasciato indenne il sottoscritto. Che momento è questo per la politica abruzzese? È un momento complesso, credo che sia stato per tutti un pugno allo stomaco, a prescindere dagli aspetti giudiziari sui quali nessuno di noi credo debba entrare perché ci sono altri organi inquirenti che se ne stanno occupando e sui quali io credo poi di poter dire serenamente di non avere dubbi circa il comportamento in termini di licetà e di legalità dei Gianni Chiodi. Il problema è un altro, il problema è il messaggio che questa esperienza e questo momento lascia traccia nell'elettorato e nei cittadini che sono particolarmente diffidenti, hanno un forte stigma verso la politica. Io lo avverto in giro, percepisco una profonda distanza rispetto a quella che è l'amministratore pubblico e questo sinceramente a un lato mi crea non poco imbarazzo.